1.2 benzina da 75 cavalli, regolare nell'erogazione, un'aspettata di velocità sopra i 4.000 giri. Bisogna maltrattarlo un po' per ottenere il massimo delle prestazioni, ma anche i bassi regimi si difendono. Assorbimento buono sulle strade di sestate, un po' meno lo smorzamento, infatti riporta un po' di vibrazione in abitacolo. Buona la silenziosità di marcia, purché i regimi del motore rimangano intorno ai 4.000-5.000 giri, oltre il motore entra un po' rumore. Sterzo lento che la rende poco veloce in ingresso curva, posteriore è sicuro, ma l'SP è sempre troppo vigile. I tagli ed elettronica appunto sono molto avvertibili e un pochino fastidiosi. Prestazioni generali modeste, lo sterzo abbastanza lento, per cui non bisogna avere fretta di entrare troppo veloci nelle corne. Il motore gira bene a tutti i regimi, ma per ottenere il massimo delle prestazioni è opportuno scalare marcia e portare su un regime di rotazione. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS